Sì, sembra purtroppo che ci siano stati più casi rispetto ai mesi precedenti, ma era piuttosto prevedibile secondo me, anche perché adesso c'è una variante che impazza in Europa, nel mondo anche in Italia, si chiama Eris, che rispetto ai precedenti Omicron è una variante più infettante. D'altra parte quando si hanno delle flusindrome d'estate, uno pensa all'influenza, pensa alla febbre dei tre giorni da vappataci, adesso bisogna anche pensare a Covid, io consiglio a chi ha i sintomi di flusindrome e quindi anche un po' di febbre, soprattutto a chi ha un po' per il Covid. Per quanto riguarda la nostra regione, l'aumento c'è stato? Sì, c'è stato, se noi facciamo riferimento al mese di luglio adesso c'è un rialzo, anche se vogliamo consistente, i numeri sono fortunatamente comunque bassi rispetto a quelli a cui eravamo abituati noi nel periodo peggiore, però ci stanno, di conseguenza sono aumentati anche i morti. In Italia mi sembra che dal 3 al 4 agosto, sino all'11 agosto ci sono stati circa una cinquantina di decessi. Ma Eris è arrivato anche in Abruzzo, in Italia? In Italia sì, sicuramente è arrivato, adesso bisogna vedere, ma penso che bisogna verificare insieme al gruppo del professor Stupia, che è il gruppo regionale che è preposto alla genotipizzazione, a vedere quanto circoli questo Eris. Intanto il Ministero ha emesso una circolare in cui annuncia la campagna vaccinale per ottobre, campagna anti-covid e anche anti-influenzale. Manca solo il parere, ma mi sembra scontato, di EMA e dell'AIFA. Come stanno le cose? A chi consiglia questo vaccino? C'è stata questa circolare, diciamo che è stata anche piuttosto tempestiva, nel senso che è una circolare nella quale si consiglia fortemente a chi è sopra i 60 anni, a chi è fragile, quindi portatore di alcune patologie che vanno a favorire l'impianto del virus. E poi è fortemente consigliato anche a noi tecnici della sanità, gli operatori sanitari, di rieffettuare questo vaccino. Un vaccino che verosimilmente sarà disponibile ad ottobre ed è un vaccino mRNA, ma saranno anche pronti dei nuovi vaccini, cosiddetti proteici, subunità proteica, che dovrebbero comunque essere ugualmente efficaci. Non si possono fare previsioni, ma a che autunno sarà questo? Questo sarà un autunno dove ci saranno, secondo me, parecchi casi, molti casi. Bisognerà, secondo me, stare attenti. Sono dei discorsi, se sei un fragile ti vai a vaccinare, se sei un fragile, secondo me, quando ti trovi in un contesto dove ci sono parecchie persone, forse l'uso della mascherina sarebbe opportuno, secondo me. Anche perché poi abbiamo visto che questo è un virus che si accanisce proprio con i fragili e quindi questi setting di soggetti dovrebbero stare particolarmente attenti. E noi tecnici della sanità dobbiamo cercare di convincere questi soggetti, ma in generale la popolazione, in toto a vaccinarsi perché così faremo circolare meno il virus o comunque, seppure circolerà, questi vaccini ci garantiranno dalla malattia severa.